Grazie a tutti. I messaggi che questi ragazzi scambiavano con i propri amici, con i propri parenti, con il fidanzato, la fidanzata, veramente questa coscienza di ragazzi che sapevano di morire, che sarebbero morti e sarebbero morti perché erano semplicemente cristiani. Luis, adesso a te la parola. Devo assentare qualcosa qui? Quello. Grazie. So che non sapete chi sono né per quale motivo mi è stato donato questo onore di essere seduto a questa tavola insieme a Gigi e a voi. E quindi vi farò perdere qualche secondo per spiegarvi perché sono qua e chi sono. Sono cileno, piuttosto anziano, vivo in Italia da 40 anni e qualcosa in più. Dal tempo in cui c'era Pinochet in Cile c'era una incompatibilità di carattere fra noi due. Da allora faccio un po' il giornalista in modo abusivo, io non sono giornalista, non ho mai studiato giornalismo, non ho mai frequentato una scuola di giornalismo, sono un abusivo. La mia professione vera è quella della neurochirurgia, un mestiere che ho esercitato in diversi continenti e poi anche in Italia e per conto delle Nazioni Unite e della Nazione Mondiale della Sanità. Un certo momento sono entrato a Radio Vaticana, attirato dal fascino dell'allora padre Gesuita Tucci, che poi diventò cardinale, e sono rimasto lì fino a un paio di anni fa. In un primo momento per 30 anni ho lavorato per il programma ispanoamericano o spagnolo della Radio Vaticana, poi me ne sono andato per alcuni anni, ho girato il resto del mondo, volevo sapere, conoscere. Studiare, pensare, confrontarmi con altre culture, sono rientrato e ho lavorato altri dieci anni con padre Federico Lombardi, nel quale sono stato un suo assistente aiutante per dieci anni, fin quando lui e io siamo andati via. Già nel frattempo, quando Papa Benedetto XVI era a Ratisvona e scoppiò il famoso problema di quanto lui disse a proposito dell'Islam e di come venne interpretato, tutti voi sapete, lo scandalo, il pasticcio e via dicendo, Lì il cardinale Tucci allora da Ratisvona chiese alla Radio di preparare un monitoraggio il più urgentemente possibile, con tutte le notizie che si stavano dando su quello che il Papa aveva detto o le veniva attribuito, perché serviva a Papa Ratzinger. L'ho fatto io, pare che sia stato un successo, da quel momento in poi nacque, adesso lo posso raccontare in pubblico, credo che è la prima volta che lo faccio, qualche cosittina tempo fa, ho raccontato a Andrea Torniele per un suo libro, da lì in poi nacque all'interno della Radio Vaticano una piccola struttura che forniva monitoraggi della rete, della rete, quindi internet, a Papa Benedetto, sporadico, in un primo momento Ratisvona, in un secondo momento la pedofilia in Irlanda, e in un terzo momento la rimozione dell'escomunica tra i Vescovi e i Lefebriani, uno dei quali aveva detto un sacco di castronerie in giro a proposito della Shoah. Dopodiché si decise di farlo in modo stabile, non solo a momenti critici ma tutti i giorni. E lui è lì, in quel momento, io e un mio amico canadese, che ancora lavora con me, noi siamo in tre, in quello che facciamo in questo momento, qui presente in questo luogo due terzi, io e il mio collega Francesco Gagliano, l'altro è al computer a lavorare, perché noi lavoriamo dalle sei del mattino a mezzanotte, e ci deve essere sempre uno seduto di fronte al computer. Da lì nacque un monitoraggio stabile, giornaliero, che dura da dodici anni più o meno, e che in un primo momento veniva mandato via email a 700 persone della nomenclatura vaticana, e successivamente, se preferì, metterlo in rete pubblicamente. Nacque questo sito, che in un primo momento era privato, se non aveva l'indirizzo non lo raggiungeva, e in un certo momento diventò inchiaro, quindi lo potevano raggiungere tutti. Quando venne raccontata questa esperienza a Papa Benedetto, insieme con il Cardinale Tucci, cercando di spiegarle di che cosa si trattava, le abbiamo detto, noi vogliamo fare una cosa in cui ci sia tutto, le buone notizie e le cattive notizie, perché se facciamo un sito con le buone notizie, diventiamo un altro osservatore romano, un'altra radio vaticana, cioè un altro media vaticano istituzionale, credibile ma limitato, e quindi non del tutto credibile. Il vero giornalismo deve essere libero, raccontare le cose buone e le cose cattive, quelle della Chiesa, della Chiesa si parla bene e si parla male, la Chiesa ha grandi successi, la Chiesa ha grandi errori, ha un grande difetto, dobbiamo parlare di tutto. Se non possiamo fare così è meglio non farlo, se volete che si faccia lo vogliamo fare così. E a quel punto Papa Benedetto con le sue manine dice quindi una sorta di sismografo che registra le onde teluriche, le cose buone e le cose meno buone. Così nacque il sismografo, che io dirigo da parecchi anni e che è un aggregatore che va a cercare notizie in cinque lingue in giro per il mondo, monitorando testate, firme, autori e via dicendo, e che dalle sei del mattino a mezzanotte offre in queste cinque lingue agli operatori del settore, che sono fondamentalmente persone che si interessano, che consumano notizie religiose ecclesiale, una ricerca il cui unico valore aggiunto è che noi la facciamo per altri, perché chiunque se la potrebbe fare però dovrebbe stare 14 ore seduto al computer. Invece noi siamo seduti lì per conto nostro, liberi, noi ci finanziamo con la mia pensione, non ci dà un soldo nessuno, qualche volta una piccola donazione e quindi nella misura in cui ci campo io e ci avrò la pensione questa cosa esiste, continua ed è libera. Noi non dobbiamo rendere conto a nessuno, né chiedere istruzione a nessuno. Tutto quello che abbiamo fatto di buono e che è stato un grande successo e dal punto di vista dei contatti, di quello che è l'amplificazione in rete, il nostro è un grande successo, lo dico con estrema modestia, è merito nostro. Tutti i nostri errori ne abbiamo fatto, insufficienza ne abbiamo fatte, ne abbiamo, è colpa nostra. Cioè, ci apprendiamo i meriti e le colpe. Facendo questo, abbiamo scoperto questo grande giornalista e scrittore che fa un passare nel prete, per di più Monsignore, e abbiamo scoperto che fra noi e lui c'erano molte sintonie esistenziali, ci siamo avvicinati a vicenda, ci siamo studiati, ci siamo pensati uno all'altro, con le solite metodologie vaticane, successo garantito per millenni, e alla fine abbiamo capito che eravamo amici e ci siamo dati una mano con l'altro. Lo seguiamo, le conosciamo le sue pubblicazioni e questo libro in particolare, e dentro nel tema poi chiudo, vedrete che sono brevissimo, era la introduzione purtroppo troppo lunga, però è che se non sapete perché sono qua, siamo entrati nel tema di questo ultimo libro dove mogliono i cristiani, e abbiamo capito nei primi pezzi che abbiamo scritto, che l'ha scritto Francesco che è qui, che interessavano molto, perché dai contatti, noi abbiamo una dita in Canada che ci misura al minuto tutti i contatti, le notizie più lette, quelle meno lette, in quale lingua e via dicendo, abbiamo capito che era un tema che interessava e ci ha incuriosito il fatto che avendo trattato altri libri sullo stesso argomento l'interesse non fosse pari o almeno così alto. Abbiamo continuato a parlare della cosa, abbiamo ricevuto molti riscontri, email, eccetera, eccetera, e abbiamo capito quello che vi dico adesso per chiudere, secondo me, che riguarda il libro. Tre cose che piacciono di questo libro. Il primo è che è un libro narrativo, che narra, e guardate che una delle cose che più manca a tutti noi oggi come oggi sono le narrazioni. E le narrazioni sono fondamentali, perché le narrazioni sono il vissuto di ciascuno di noi, di ogni civiltà, di ogni cultura, di ogni persona. purtroppo Papa Francesco, che sa usare molto bene le parole, che non spreca mai le parole, non sempre viene ben capito, o viene capito in modo frettoloso, o in modo banale e scontato. E una delle cose che del Papa non è stata mai ben capita è quello delle periferie, perché tutti, dai vaticanista in giù, dal più famoso, al meno famoso, dal giornalista più importante, al meno importante, la sparano sempre con il luogo comune, la periferia, quello che sta lontano, i poveri, l'Africa, l'Asia, tutti questi luoghi comuni che snaturano il linguaggio e il senso delle parole del Papa. Se si va a leggere e a studiare da quando era arcivesco di Buenos Aires, si capisce che quando il Papa parla di periferia sta parlando di narrazione. Ogni continente, ogni cultura, ogni popolo, ogni persona, ogni singola biografia è una narrazione unica e insostituibile. E lì è il suo valore. Ecco perché a un certo momento dice le periferie consentono di vedere meglio il centro. Cioè le narrazioni della povertà, delle emorragie, delle guerre, le narrazioni della miseria, della sofferenza, del dolore, dello stupro, della pedofilia sono cose che ti aiutano a capire il centro, il potere, il denaro, l'istituzione internazionale, il Vaticano, la Santa Sede, la Secretaria di Stato. la riforma della Chiesa. In questo libro, per quanto riguarda l'argomento, la narrazione è fondamentale perché sono, secondo elemento del libro, i protagonisti quelli che parlano, quelli che stanno lì a vivere le situazioni. Non c'è sociologia in questo libro perché libri sulla persecuzione dei cristiani abbiamo le scatole piene, ma sono tutti studi sociologici, statistici, opinione, considerazione, a mio avviso, io ritengo, mi pare che, e i perseguitati? Non dico i morti perché purtroppo i morti non parlano, ma quelli che in un qualche modo ce l'hanno fatta, in questo libro parlano. Ultimo, e chiudo, chiedo scusa per aver allungato la minestra, curiosamente, ma adesso che lo conosciamo, ci frequentiamo ogni tanto, mangiamo la pizza, ci mandiamo a quel paese, eccetera, eccetera, io lo capisco bene perché fa parte del suo modo di essere. Il libro alla fine dove muoiono i cristiani è una consegna a ciascuno di noi che lo legge di una quantità enorme di informazione, ma soft, umile, semplice, senza pretese, senza l'idea di che vengo io a raccontarti il mondo, no. Nella narrazione si racconta il mondo da solo, si finisce leggendo il libro con il cuore molto ristretto e ti manca il respiro perché è un libro pessimista, terribilmente pessimista, però a un certo momento quando hai chiuso la controcopertina te ne accorgi che si tratta di un pessimismo particolare, si tratta del pessimismo che qualcuno in Inghilterra una volta ha definito pessimista e un optimista ben informato. Grazie. Inutile dire che sono totalmente d'accordo con lui su tutto il contenuto di questi libretti. Io credo che c'è il segreto di questi libretti, è vero, sono le persone che parlano, sono le persone che raccontano le storie, però credo che ci sia un altro segreto. molti giornalisti quando vanno nei campi da guerra, nelle situazioni difficili, generalmente guardano quelle situazioni da un albergo a 5 stelle, molte volte nel bar dell'albergo dove si mettono a discutere con colleghi e decidono le sorti del mondo, della guerra, dei conflitti e scrivono i loro pezzi comodamente seduti in queste hall o in questi bar di comodissimi e bellissimi alberghi. Quindi il racconto che fanno è evidentemente un racconto astratto, freddo, lontano dalla realtà che non ti commuove, non ti motiva, non ti porta a nulla, non ti dice niente basicamente, sono dei dati, delle loro idee che ti gettano lì sentendosi anche molto importanti. Qual è la differenza che io noto? Che quando Don Gigi viaggia, viaggia, a parte che per arrivare in un posto prende 10 aerei per poter risparmiare sul viaggio, ma poi arriva e dorme nelle case delle persone di cui poi ci racconta, quindi vive nelle favela, nelle catapecchie, con i topi, con i bacarozzi, che molte volte io gli dico guarda, chiedimi tutto, ti presento tutti i libri che vuoi, ti scrivo tutti i prologhi che vuoi, ma io l'anima da Boy Scout non ce l'ho. però lui ce l'ha e ci va, ci va e ci ritorna. Se tu vivi, fai colazione, ceni, pranzi con queste persone è ovvio che quando tu parli di loro hai un linguaggio molto più umano, molto più vero e questo si trasmette nei libri. E questo secondo me il vero successo di questi libretti che ti colpiscono perché sono autentici, perché è tutto autentico, ma perché lui condivide la vita di queste persone. Quindi questo in aggiunta diciamo a tutto quello che ha detto lui sul perché questi libri prendono tanto e provocano tante reazioni. E adesso dobbiamo vedere un altro video e poi